Ciao, sono Paolo e con il progetto Collab vorremmo supportare organizzazioni culturali nella collaborazione con altri settori non creativi. Ciao, sono Angela da Materab e con questa call vorremmo supportare dei progetti culturali nella quale ci sia il coinvolgimento dei pubblici. Ciao a tutti, sono Imiiglia Buriti, da l'Elai. Il scopo di questa collaborazione è di dare l'esperienza in quanto riguarda le nostre attività, nella collaborazione con le nostre attività energetica e di aiutare altri organizzatori che vivono in questa collaborazione. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.